Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale e di mio fratello. Continuiamo oggi con il mio racconto, la leggenda del piccolo Alileone, dell'episodio Rivederci Millie. Trascorsero cinque mesi e Tommaso con la sua famiglia si accorsero che Millie era cresciuto moltissimo. Tanto che i genitori di Tommaso arrivavano alle gambe di Millie. Franco rimase impressionato dall'altezza di Millie e disse «Tommaso, Millie è diventato troppo grande per tenerlo in casa con noi. Qui non potrà a lungo vivere. Purtroppo dovremo prendere una difficile decisione. Prezzo bene. Dobbiamo riportarlo alla piramide dove l'abbiamo trovato quest'estate. Non lo abbandoneremo, stanne certo. Andremo a trovarlo molto spesso». Tommaso, triste di doversi separare da Millie, chiese alla Alileone se fossi d'accordo con la loro scelta e lui rispose «Per me va bene. Non ho ancora raggiunto lo stato adulto, quindi mi pare giusto che mi riportiate alla piramide dei re, il luogo dove sono nato. Io non soffrirò e voi potrete venirmi a trovare quando vorrete». Fuori era già buio. Allora Samantha e Franco, insieme ai loro figli, gli mandarono il viaggio il giorno dopo, poiché il deserto di notte era pericoloso attraversarlo. Passata la notte, finalmente giunse il giorno tanto atteso. Samantha e Franco con la sua famiglia, insieme a Millie, partirono, attraversarono il deserto e giunsero la piramide, dove avevano trovato Millie per la prima volta. Quando arrivarono alla metà, Tommaso e la sua famiglia videro due esemplari di Alileoni adulti e cercavano qualcosa. Tommaso si avvicinò con coraggio ai due Alileoni adulti e disse a loro «Scusate, cosa state cercando?» I due Alileoni adulti risposero «Stiamo cercando nostro figlio, purtroppo scomparso da molto tempo e non abbiamo mostrò le notizie». L'ultima volta che l'avevamo visto era nella piramide dei re. Tommaso comprese che i due Alileoni erano i genitori di Millie. Con gioia lo mostrò loro, che era proprio il loro figlio perduto. «Felici, Tommaso e la sua famiglia salutarono Millie, promettendo che molto presto ci sarebbero i visti». Questo è Tommaso, che parla con i genitori di Millie. Questa è la famiglia di Tommaso e Millie. Bene, vi ringrazio dall'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Grazie, alla prossima. Ciao da Davide.